eccomi qua cari amici come avevo promesso vi faccio vedere dove mi trovo mi trovo al caos nel caos, sono nel caos totale perché avevo bisogno di farmi due o tre peletti in testa che sono fuori di testa vabbè comunque. Mi raccomando stasera sarò lì con voi su facebook e vi prego ad aiutarci non ci fate fare una brutta figura anche perché io con facebook sono negato a proposito questa è la prima volta che vedo una fiction non a casa da solo e senza nessuno vicino perché io normalmente sono così sereno e calmo che ho bisogno di vedermeli da solo le cose per poter incacchiarmi per poter dire che sta a fare K2 parrucchieri non uno, uno che guarda e uno che guarda e uno che guarda. Tutti davanti a te perché dietro non ci sei niente ci abbiamo provato come dicevo io queste cose le amo fare da sole perché poi in genere secondo me mi faccio schifo proprio cioè io detesto vedermi adesso stasera invece mi faranno stare davanti al televisore con tutti gli amici con tutti voi e io sarò sereno tranquillo e spensierato mannaggia pensate con tutti i televisori che c'ho a casa io sto da solo da una parte mentre dall'altra parte c'è sta mia moglie con i miei figli e poi ogni tanto arriva la mia ma hai visto quella scena? ma hai visto come sta a fare la testa? si vabbè continua dai il risultato non è garantito no appunto basta che non mi cascano poi il resto però voglio dire e quindi arrivano i miei figli arrivano i miei figli arriva mia moglie ma allora che è successo? vi prego ma quanti puntate? sono 10 puntate no 40 una maratona una maratona una maratona quindi ragazzi vi prego me voglio carico, me voglio forte aiutateci dateci il vostro conforto e soprattutto dite cosa ne pensate e soprattutto se c'è qualcosa che non vi piace della storia, dell'interpretazione, del personaggio ditemelo così la prossima volta lo vado a dire a chi ti dovere è giusta la situazione ma anche i capelli si è un bando bello anche se i capelli poi non vi piacciono ditemelo sono stupendi insomma qua ci vuole il chirurgo non ci vuole un parrucchiere massaggio compreso è tutto incorporato massaggio vabbè ragazzi comunque tagliamo corto è troppo lungo ci vediamo più tardi con gli amici di di solo per amore intanto lui finisce l'opera non cerchiamo di concludere ciao 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 ciao